Il Pescara Calcio rientra in un progetto dove chi di fatto ha portato avanti tutto si chiama Proger S.p.A. Perché la Pescara Calcio? Perché come tutti sappiamo la Cina sta facendo degli investimenti colossali nelle infrastrutture sportive. Si parla di un programma di 30 anni in cui circa il governo cinese ha individuato una fetta di circa 700 milioni di cinesi che sono interessati più o meno al gioco del calcio. Lo stiamo vedendo anche dei tipi di investimenti che stanno facendo i cinesi in Europa. In questo momento la Pescara Calcio presenterà ai cinesi un progetto di scuola calcio. Perché in Cina società di primo livello, dalle prime spagnole, alle prime inglesi e alle prime italiane hanno aperto scuole calcio importanti. Per cui la stessa Pescara Calcio porterà un progetto e come testimonian l'avrà Simone Pepe per aprire appunto una scuola calcio nella provincia del Fujiyang. Ci sarà un'opportunità per la Pescara Calcio. Io me lo auguro. Starà alla società a cogliere l'occasione di queste importanti relazioni. La Camera di Commercio di Pescara firmerà con la Camera di Commercio del Fujiyang un protocollo d'intesa. Avremo anche degli incontri ufficiali con importanti funzionali della provincia del Fujiyang. Dopodiché lì ci saranno una serie di incontri in particolare con questo Xiaming Group che ribadisco è un vero e proprio colosso. Poi le ribadisco starà al presidente Sebastiani che avrà sicuramente dei contatti appunto con questi importanti manager e se ci sarà l'occasione lo dovrà chiedere a Sebastiani.